Mi è stato chiesto di condividere con voi per sei giorni una riflessione di circa un minuto. Ci sono al mondo soltanto poche parole capaci di dire in un minuto quanto basta per riempire una giornata e una vita intera, quelle uscite dalla bocca di Gesù. Ve ne proporrò una alla volta pregandovi di masticarla tutto il giorno come per una specie di ceuingam dell'anima. Andiamo subito alla parola da masticare oggi. È la parola che Gesù rivolse ai due discepoli del Battista che gli erano andati dietro. Che cercate? Ricordate il seguito. Quelli risposero Maestro dove abiti? E lui venite e vedete. Ma in questo momento ci interessa solo la domanda di Gesù. Che cercate? Ti sei mai posto fratello o sorella in ascolto la domanda che cerco io nella vita? Se non trovi subito la risposta te la suggerisco io. Tu cerchi quello che cercano tutti. La felicità. Prima di Freud lo aveva capito Sant'Agostino. Tutti diceva vogliamo essere felici. Ma a differenza di Freud Sant'Agostino dava anche la ragione di questa pulsione universale. Tu ci hai fatti per te dice rivolto a Dio e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Esaminati fratello o sorella e vedi se non sta proprio qui la spiegazione di tante tue tristezze e inquietudini. Cioè nell'aver cercato acqua in cisterne screpolate anziché nella fonte di acqua viva che è Dio.